Ben ritrovate, ben ritrovati. Beh, la giornata di ieri ha fatto rumore, continuo a far rumore, mi riferisco all'Assemblea degli Azionisti della Juventus, riunitasi a Torino, all'Allianza Stadium, in sede ordinaria, per l'ultima volta sotto la presidenza di Andrea Agnelli. L'obiettivo era provare il bilancio di esercizio al 30 giugno 2022. Ciò è accaduto, perdite pari a 238,1 milioni, di cui 226,4 appartenenti all'esercizio 2020-2021. L'invito è sempre lo stesso, andate a leggere le analisi di chi sa trattare e come questo argomento, perché sono numeri che possono spaventare, ma da contestualizzare e soprattutto da analizzare con la giusta lucidità e soprattutto i giusti mezzi. Ci vuole davvero un'ottima conoscenza, una grande conoscenza della materia. In tre hanno catturato però ieri la scena. Mi riferisco al presidente Andrea Agnelli, mi riferisco alla D, Maurizio Arriva Bene, e mi riferisco a Luciano Moggi. Agnelli ha dichiarato che dimettersi non è stata una decisione per nulla facile, ha detto che si è impegnato al massimo per ottenere risultati, che poi sono arrivati in campo e fuori, e che la Juventus viene prima di tutto e di tutti. Quindi la Juventus sta lì. Poi dirigenti, calciatori, allenatori passano, e ce lo dice proprio la storia di questo gloriosissimo club, che ha ottenuto fior di risultati con Andrea Agnelli, con Umberta Agnelli, con Giovanni Agnelli, nell'epoca bonipertiana, nell'epoca moggiana, quindi è normale che ora lo scossone dell'addio di Andrea Agnelli dopo 12 anni lascia il segno. D'altra parte Andrea Agnelli è stato un presidente tifoso, e questo secondo me è esposta, davvero è stato il primo tifoso, credo che continuerà ad esserlo, anzi sicuramente sarà così, perché Andrea Agnelli ha ritratto un certo tipo di situazione, ha portato la Juve in una determinata posizione, e poi ci sono stati degli errori, soprattutto negli ultimi anni, che hanno fatto perdere la via maestra, e che hanno portato la Juventus ad avere una situazione complicata a livello di conti, anche per colpa del Covid, e in generale una programmazione che non è più sfociata nella produttività, basta pensare all'allontanamento di determinati dirigenti, alla promozione di altri, alla scelta di alcuni allenatori, messi alla porta dopo un anno, insomma, le ultime decisioni prese, magari non solamente in prima persona da Andrea Agnelli, ma comunque dell'era Andrea Agnelli, sicuramente hanno portato la Juventus a un evidente stato di difficoltà, tracampo, extracampo, insomma, i problemi non mancano, e non stiamo parlando di un periodo storico semplice, motivo per cui il 18 gennaio verrà nominato un consiglio di amministrazione, che abbiamo definito ormai tutti governo tecnico, che si occuperà principalmente di risolvere i problemi legati all'extracampo, al tempo stesso, senza snobbare la parte sportiva, perché è fondamentale in un club di calcio, affinché si possa poi ottenere determinati risultati dentro e fuori il rettangolo di gioco. Protagonista assoluto, anche di molti giornali oggi, è Luciano Moggi, c'è l'antijuventinismo acuto, che fin dalle sue prime dichiarazioni ieri pomeriggio è andato dritto per dritto contro l'ex direttore generale della Juventus, che sostanzialmente per la prima volta si è presentato all'Allianz in qualità di azionista, ha dichiarato di essere andato allo stadion per ringraziare Agnelli, per ringraziare un gruppo che ha portato nove scudetti di fila. Moggi ha aggiunto che nove scudetti di fila non si vincono con facilità, sono quelle cose, ha detto testuale, che difficilmente si riescono a capire. E io qua sono molto d'accordo con Moggi, perché quando vinci uno scudetto vuoi subito il secondo, quando vinci il secondo vuoi subito il terzo. Così andando, fin quando non vinci più e capisci la grandezza di quello che hai fatto. Attenzione, nove scudetti di fila per me rappresenteranno sempre un unicum. Trovo estremamente solamente difficile ipotizzare che qualcuno possa avvicinarsi, no? Possa davvero tentare di mettere in crisi questo incredibile record juventino, e quindi motivo di vanto del calcio italiano. O me così dovrebbe essere, ma sappiamo perfettamente come la Juventus in Italia sia sì la squadra più amata, ma anche la più detestata. Però Moggi, ieri secondo me, ha voluto fare un gesto carino nei confronti di Andrea Agnelli, sappiamo perfettamente poi come il rapporto tra i due sia più che ottimo, e quindi poi ha fatto uno show, d'altra parte fa parte del personaggio, Moggi è sempre stato così, diretto, schietto, vulcanico, e c'è una frase che secondo me più delle altre pronunciate da Moggi poi resta, ovvero la Juventus ha sempre vinto sul campo e non ha mai rubato niente a nessuno. Questa roba, questa frase, Moggi l'ha dichiarata più volte all'interno dei suoi quattro segmenti, dei suoi quattro interventi proposti ieri, in qualità, lo ribadisco, di azionista. Abbiamo sentito anche le parole di Maurizio Riva Bene, che, come ben sappiamo, ha mantenuto le deleghe necessarie per traghettare la Juventus verso il nuovo corso, quello il 18 gennaio, dopodiché, però, anche per Riva Bene si chiuderà la porta della Continassa, o meglio, non farà più parte dell'organigramma e non sarà più l'AD di questa società. Riva Bene è stato interpellato su più ambiti, però la parte che resta è quando ha spiegato il passaggio da Paolo Di Bala ad un altro argentino, e che è argentino Angel Di Maria, tra l'altro entrambi i freschissimi campioni del mondo. sostanzialmente Riva Bene ha dichiarato che le richieste di Di Bala erano importanti, e soprattutto su più anni, e quindi prendere Di Maria per una sola stagione ha avuto il compito di portare a casa un grande giocatore che potesse far crescere sotto la sua ala anche i giovani. Quindi sostanzialmente Riva Bene ha spiegato un concetto che aveva fatto già ampiamente capire nelle sue dichiarazioni, che sono sempre state molto dirette, se vogliamo, impopolari. Ovvio che ognuno qua ha la sua idea, la sua interpretazione legittima, quella della Juventus, di non rinnovare il contratto a Paolo Di Bala, nonostante poi l'accordo fosse cosa fatta, e questa corrente di pensiero è stata confermata sia da lato Riva Bene, sia dal lato Di Bala, però poi la strategia complessiva, cioè quella di dire ok, non diamo questi soldi a Di Bala perché li dirottiamo su Di Maria e Pogba, finora non è stata affatto una scelta felice, perché Pogba non l'abbiamo ancora rivisto in campo, e chissà quando tornerà, nel senso che non sembra roba proprio imminentissima, e lo stesso Di Maria, ha fatto due o tre partite alla Di Maria, e dopodiché l'abbiamo visto in grande spolvero nell'atto finale del mondiale vinto proprio dall'Argentina contro la Francia. Insomma, Agnelli, Moggi, arriva Bene, stanno facendo discutere moltissimo questa mattina i vari social, anche sui giornali ci sono tante correnti di pensiero, alcune anche interessanti, resta il fatto che parliamo comunque di una Juventus che si prepara a cambiare pagina, che vedrà come figura quasi factotum Scaravino dominare la scena, e già il direttore generale, dal 18 gennaio sarà anche l'amministratore delegato, e sempre il 18 gennaio la Juve avrà un presidente che si chiamerà Gianluca Ferrero.